E' padroni, e' modelli piccati, se ci sono gli altri disoccupati, da' modelli e' padroni, e' modelli piccati. Perciò, i suoi piper, se ci sono gli altri disoccupati, da' modelli piccati, se ci sono gli altri disoccupati, o cose che lo capire, se ci sono gli altri, Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.